Dei cinque poliziotti assegnati nel tempo all'omicidio di Dolores Murgia sono l'unica ancora in vita. Ho perso quattro colleghi, quattro amici. Alcuni dicevano che quel caso fosse disgraziato, che tutti noi avremmo fatto meglio a dimenticarcene, a lasciarlo irrisolto. A furia di scavare, invece, avevamo risvegliato Sasanimas Malas, gli spiriti malvagi, e il buio ci aveva investiti tutti, uno dopo l'altro, come una maledizione. So anche cosa dicono di me. Sostengono che i miei colleghi siano stati più fortunati. Chi ha pagato e pagherà più di tutti sono io, quella ancora viva. La dannazione ora pesa su di me, ed è una croce orribile da portare. Nei giorni migliori cerco di convincermi che non importa, quello era il nostro mestiere e la ragazza doveva avere giustizia in un modo o nell'altro. In quelli peggiori sento di aver sbagliato tutto, di aver permesso che gli altri fossero trascinati a fondo per nulla. Ultimamente i giorni brutti sono molti di più. Alzarsi dal letto e andare al lavoro è sempre più difficile. Avrei dovuto dare le dimissioni quando sono rimasta sola, ma non ci sono riuscita. Troppi spettri, troppe recriminazioni. E chi dice che i fantasmi col passare del tempo impallidiscono, si rassegnano e spariscono? Mente. I miei sono più vividi che mai. Mi ricordano che l'unico investigatore rimasto di quella che fu la squadra speciale sono io. Su di me pesa la responsabilità di finire il lavoro, anche se tutti sembrano essersi dimenticati di Dolores e delle altre ragazze.